Terra Amara Anticipazioni. La puntata che ti porto avrà un brutto finale per Demir. Dopo il risveglio dal coma, Umit, denuncerà pubblicamente Demir, la quale verrà arrestato. Vuoi sapere come andrà a finire? Rimani fino alla fine e non te ne pentirai. Partiamo. Il cuore di Fikret batteva veloce, un ritmo ansioso, mentre componeva il numero di Batyar. Con voce tremante, interrogava Batyar sulla sua posizione e sulle recenti azioni. Un sospiro di sollievo gli sfuggì quando, finalmente, apprese che Umit era miracolosamente salva. Batyar, con un tono carico di sospetto e preoccupazione, premette Fikret sull'aggressione a Umit, spronandolo a compiere la scelta giusta e a emergere dall'ombra. Fikret, intrappolato in una rete di paura e sospetto, temeva che Umit potesse averlo accusato ingiustamente. Nel frattempo, di fronte all'ospedale, il procuratore aveva appena lasciato la stanza di Umit, spingendo Sevda a prendere la difficile decisione di confrontarsi con sua figlia. Sermin, avvolta nell'ombra del pessimismo, scatena l'ira di Zuleia, la quale la fulmina con uno sguardo severo, intimandole di tacere. In questo clima di ansia, Fekeli cerca di instillare calma e speranza in Zuleia, la quale, si chiede chi possa aver inflitto tanto dolore a Umit. Fekeli afferma con determinazione che presto identificheranno il colpevole. Se Fikret è il responsabile di questa tragedia, giura che lo scopriranno e che dovrà rispondere delle sue azioni. Zuleia, confusa, chiede se Fikret sia fuggito. Fekeli annuisce, rivelando che dopo il dramma di Umit, Fikret è svanito nel nulla insieme a Mugeigan e Kerem. Nell'oscurità di un presentimento amaro, Zuleia deduce che Fikret deve essere il colpevole. La tensione raggiunge il suo apice durante il processo quando viene letta la dichiarazione accusatoria contro Demir. Questa rivelazione scatena il caos tra tutti i presenti. Prima di continuare, se vorresti continui aggiornamenti su questa fantastica sop, iscriviti e riceverai nuovi video in anteprima. Concluso il processo, Zuleia è travolta da un turbinio di emozioni, incapace di comprendere come Umit possa averli traditi quando loro non hanno mai agito con malizia. Demir viene portato via dagli agenti, e Zuleia, con gli occhi colmi di lacrime, gli promette che lo libererà, convinta della sua innocenza. Demir le chiede di prendersi cura dei loro figli. Mentre Fekeli cerca disperatamente di consolare Zuleia, lei si allontana con il cuore infranto, incapace di accettare la cruda realtà. Nel momento in cui Fekeli e Lucy si ritrovano, lei esprime il suo sconcerto per la situazione. Fekeli, in silenzio, suggerisce con cautela di non precipitarsi nel giudicare l'innocenza di Fikret. Lucy insiste, chiedendo spiegazioni sulle sue parole, ma Fekeli la esorta a esaminare la questione con calma e lucidità, nonostante la testimonianza di Umit che esclude Fikret come aggressore. Nel fitto intreccio di dialoghi, Fekeli e Lucy rompono nella stanza e trovano Mugeigan. Fekeli la saluta cortesemente, ma lei lo ignora creando un momento di tensione. Mugeigan si scusa, ma Fekeli, deluso, si allontana. Nel frattempo, Lucy interroga Mugeigan sulla sua solitudine e sulla posizione di Fikret. Mugeigan, visibilmente turbata, racconta di aver appreso della situazione di Umit dal giornale e di aver immediatamente contattato Batyar, decidendo di tornare temendo che Fikret potesse essere coinvolto. Nel frattempo, Zuleya si confronta con Sadi sulla dichiarazione di Umit e sulla presunta innocenza di Demir. Zuleya suggerisce che Umit possa aver incastrato Demir per proteggere Fikret a causa di un precedente litigio che avrebbe potuto portare Fikret a spingere Umit. Sadi, contemplando questa teoria, ammette che potrebbe essere plausibile. Zuleya chiede aiuto a Sadi per evitare che Demir finisca ingiustamente in prigione. Sadi, con una promessa di impegno, assicura a Zuleya di fare tutto il possibile e la esorta a condividere qualsiasi informazione possa aiutare. Nel frattempo, interrompendo il dialogo, Mugeigan afferma con fermezza l'innocenza di Demir, aggiungendo un ulteriore strato di complessità a una situazione già intricata. Lucy interroga Mugeigan sul perché sia così certa dell'innocenza di Demir. Mugeigan rivela che il giorno dell'incidente aveva visitato Umit per salutarla e aveva visto Demir uscire dalla sua casa in uno stato di evidente agitazione, ma Umit era incolume. Lucy, cercando di capire meglio la situazione, chiede il motivo della collera di Demir. Mugeigan, incerta e confusa, non riesce a fornire una spiegazione. Fekeli interviene rivelando che Demir e Umit avevano avuto una relazione. Mugeigan, quasi incredula, chiede a Fekeli come ne sia venuto a conoscenza. Fekeli spiega che Demir, pentito per il suo coinvolgimento con Umit, aveva deciso di tornare da Zuleya, ma Umit si era rifiutata di lasciarlo andare. Lucy, cogliendo l'opportunità di approfondire, suggerisce che forse Demir avrebbe potuto ferire Umit. Mugeigan, però, è fermamente convinta che Umit stesse bene e che Demir fosse già andato via. Se Demir fosse il responsabile, avrebbe dovuto fare ritorno a casa di Umit solo dopo l'uscita di Mugeigan. Lucy si chiede il motivo per cui Umit avrebbe accusato Demir se quest'ultimo fosse innocente, ipotizzando se Umit stia cercando di forzare Demir a un cambiamento. Mugeigan, sentendosi trascurata da Fekeli, rivela che dopo aver appreso dell'espulsione di Fikret, aveva pensato di abbandonare tutto per iniziare una nuova vita. Tuttavia, voleva congedarsi da Umit chiedendo il suo permesso e la sua benedizione. Il giorno dell'incidente, dopo aver salutato Umit, tornò in ospedale dove Fikret, agitato, le comunicò la necessità di partire immediatamente. Lucy, cercando di comprendere la fretta, ascolta Mugeigan ammettere di non sapere il motivo ma rivelare che sarebbero partiti direttamente per la Germania se Kerem avesse avuto il passaporto. Tuttavia, dopo aver visto un giornale in hotel, Mugeigan decise di tornare. Con tono grave, Lucy informa Mugeigan che Umit e Fikret erano una coppia. Sconvolta dalla rivelazione del tradimento della sua migliore amica e dell'uomo che credeva di amare, Mugeigan cerca di elaborare la situazione. I lavoratori scambiano congetture sul processo. Chetín, con passo deciso, rivela a Gulten che Fikret e Mugeigan sono fuggiti. Gulten ipotizza che forse Demir sia effettivamente colpevole. Chetín, con espressione interrogativa, chiede il motivo di tale supposizione. Gulten nota atteggiamenti insoliti tra Umit e Demir, con Demir visibilmente irritato e sospetta che abbiano avuto una forte discussione quel giorno, con Demir che ha spinto Umit, seppur involontariamente. Chetín, ascolta Gulten confessare il senso di colpa per non aver rivelato a Zuley a ciò che ha visto, sentendosi costretta al silenzio. Chetín le consiglia di mantenere ancora il segreto, dato che Demir è già in carcere. Nel frattempo, Fikret, smarrito in un intricato labirinto di strategie e alleanze, giunge a un accordo con un conoscente prima di fare ritorno all'albergo con l'intenzione di preparare le valigie. Tuttavia, la visione di un giocattolo appartenente a Kerem colpisce Fikret come un pugno allo stomaco, suscitando riflessioni dolorose sull'abbandono di Mugeigan, che lo ha giudicato un mostro. La quiete della stanza viene improvvisamente spezzata dall'irruzione di uomini armati, e Fikret si trova istantaneamente accerchiato e minacciato. È un finale inaspettato. Chi sono questi uomini? Se ti interessa sapere il continuo della storia, scrivi, certo, nei commenti e riceverai il nuovo video. Ciao!